Ciao ragazzi, io sono Michele Maltauro, compositore e musicista. E io, Alessandra Scalabrin, cantante e compositrice. E siamo qui per presentarvi il nostro nuovo singolo dal titolo A Whispered From The Sea, che è una canzone che avevo scritto molto tempo fa e poi riposta in un cassetto. Però, grazie a Michele, questa canzone vedrà la luce. Sì, è una canzone che aspettavo perché mi ha dato la possibilità di lavorare sia su nuovi arrangiamenti, ma anche su nuove idee. A Whispered From The Sea parla dell'amore per se stessi e il video ufficiale uscirà presso a poco in agosto. Quindi rimanete sintonizzati. Ciao ragazzi.